Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Prestare attenzione al mezzo pesante fermo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma. Ancora veicoli fermi in avaria in A1 tra Monte San Stavino e Arezzo in direzione Firenze, in A11 tra Prato Est e il Bivio con la 1 in direzione Firenze, in A12 tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano e in FIPI lì tra Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 53,50 e 51,400 tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!